ciao a tutti benvenuti bentornati in un nuovo video oggi in questo video vorrei provare insieme a voi questo mascara di cadris e quindi per fare questo metterò il mascara di cadris in un occhio e il mascara che uso generalmente nell'altro che è quello di kiko che è questo qui riscaldiamo il piegaciglia per l'occhio sinistro dovrò mettere il mascara di kiko quindi quello che uso generalmente mentre nell'occhio destro andrò a mettere a provare insieme a voi il mascara di cadris così vediamo le differenze se ci sono differenze allora sicuramente pettina sicuramente allunga e separa ma non mi dà l'idea di volume non c'è il volume a parte il fatto che mi sto sporcando completamente non fosse perché ho aperto da poco quindi andremo a mettere nell'occhio sinistro il mascara di kiko che metto in genera che metto solitamente ecco che utilizzo allora qui vedo volume se devo essere sincera tra i due io preferisco quello di kiko perché forse perché questo è aperto da poco sono io che non so come applicarlo bene anche lo scovolino vi faccio vedere è diverso cioè questo ecco è così con le sedoline piccoline molto piccole in silicone sembra mentre questo qui proprio allo scovolino è si vede che le volumizza è un po' a clessidra comunque quindi non so non mi convince molto questo dietrista se qualcuno di voi l'ha provato sa come magari c'è c'è una tecnica particolare per utilizzarlo per fare in modo da sfruttarlo al massimo ecco io lo passerei forse su questo dopo magari e così secondo me si può fare questo cioè io personalmente posso utilizzarlo così a parte che mi sta andando ovunque comunque posso utilizzarlo come secondo mascara per scurire ancora di più non so adesso qua come recuperiamo sicuramente le allungate queste sono allora dove ho applicato prima il maschera di Kiko e poi quello di Doris sicuramente le allungate queste sono allora dove ho applicato prima il maschera di Kiko e poi quello di Doris c'è più volume ha incurvato le ciglia e poi si le ha scurite mentre qui dove ho applicato prima il maschera di Doris rispetto a questo le ciglia sono più lunghe più allungate danno un effetto quindi sì diciamo che posso usarli tutti e due insieme forse allora se qualcuno di voi l'ha provato e sa dirmi magari se qualche giorno dall'apertura le cose migliorano e leggerò i vostri commenti così magari posso avere un riscontro ecco per capire se proprio il mascara diciamo che dà questo effetto oppure è solamente perché è nuovo anche se il mascara tu lo compri dovrebbe dare subito l'effetto sperato no? non aspettare un mese dopo che l'hai comprato però va bene ok se vi è piaciuto il video lasciate un like noi ci vediamo domenica prossima alle 13.30 e vi auguro una buona giornata un bacione ciao a presto ciao a presto ciao a presto